Musica Elezioni Carbonia parla il segretario d'EM Emanuele Cani Bene le liste civiche ma l'unità delle forze di centro-sinistra sia un punto fermo Così il segretario del PD Sardo Emanuele Cani intervenuto sulle prossime amministrative e possibili candidati alla carica di sindaco Pullman inaccessibile ai disabili, la denuncia dell'Associazione Nava, impossibile usufruire del servizio di trasporto urbano dell'Ast Gonnesa Fontanamare, a breve il via ai lavori Si è tenuta venerdì scorso la videoconferenza per disegnare il perimetro degli interventi per la ricostruzione del ponte crollato sulla strada che collega Gonnesa Fontanamare Sei anni fa moriva D'Averio Giovannetti, segretario della CGL Sarda e senatore della Repubblica nel PC Nel Tg il ricordo dell'ex segretario della Camera del Lavoro Roberto Puddu Ben ritrovati su Canale 40, apriamo il nostro telegiornale con la politica locale Precisamente parliamo di Carbonia, delle amministrative che si terranno l'anno prossimo Dopo aver sentito il sindaco Paola Massidda nei giorni scorsi sulle prossime elezioni amministrative Appunto e su come il Movimento 5 Stelle si stia organizzando al proprio interno Torniamo a parlare oggi del centro-sinistra e dei suoi probabili candidati alla carica di sindaco Ne abbiamo parlato con il segretario regionale del Partito Democratico Emanuele Cani Al quale abbiamo chiesto che cosa ne pensa del paventato addio al PD dell'ex sindaco Giuseppe Cassi Possibile candidato, sentiamo Ma io non credo che questo si verificherà Giuseppe è una persona con cui abbiamo condiviso molti anni di attività politica istituzionale È un punto di riferimento importante per il nostro partito, per il centro-sinistra Io credo anche per la città di Carbonia E io credo che ci siano tutte le condizioni per proseguire un rapporto con Giuseppe Nell'interesse suo, nostro, del partito e soprattutto della città Lui ha voluto lanciare un messaggio Ha lanciato come dire un sasso nello stagno Ha aperto un dibattito in città e questo è positivo in un momento come questo Ha parlato di una ipotesi di allargamento, di una compagine ai cosiddetti movimenti civici Su questo io personalmente sono molto d'accordo Lo abbiamo fatto in tante occasioni Anche alle ultime elezioni regionali Attorno a Massimo Zedda, pur avendo le sigle dei partiti Abbiamo poi costruito una rete imponente Diciamo di liste civiche Una quantità importante di liste civiche Quindi questa apertura di Giuseppe al civismo Alla società civile All'essere come dire Una organizzazione che abbia la capacità anche come dire Di andare oltre i soli partiti È un fatto che sicuramente stimola una discussione Su cui noi siamo assolutamente disponibili a discutere E io questo lo dico anche personalmente Oltre per quello che rappresento in questo momento Ma anche per il rapporto personale Che mi lega a Giuseppe da tanti anni di militanza comune Io sono convinto che anche questa volta Questo percorso lo faremo assieme Emanuele, lei è anche il segretario regionale Del Partito Democratico Crede che per quanto riguarda la città di Carboni Almeno sia possibile far convivere Il percorso delle liste civiche Così come lei lo ha prospettato Mantenendo l'unità del centro-sinistra? Io credo che sia un dovere Perché questa città in questi quattro anni Che ci lasciamo alle spalle È stata male amministrata La compagine che attualmente governa La regione a trazione leghista Non ci piace dal punto di vista politico Per le idee che ha Per il progetto politico che sta mettendo in campo E che ha messo in campo In questi 14 mezzi di governo Noi riteniamo che la nostra città Deba riprendersi uno spazio politico Che è di questa città Che deve partire da una matrice Diciamo del centro-sinistra Come è sempre stato nella storia di questa città Quindi io credo che sia assolutamente conciliabile Il fatto di tenere un blocco Di rappresentanza culturale Politica, sindacale, sociale Che ha una forte matrice di centro-sinistra E costruire poi attorno a questa matrice Con questa matrice di centro-sinistra Una rete importante Che riguarda invece la rappresentanza Di tutte quelle realtà sociali, culturali Quindi l'associazionismo La cosiddetta società civile Io credo che in questo momento Questo progetto si... E restiamo a Carbonia Il pullman dell'Arst Che sostituisce o affianca Temporaneamente Il bus del circuito urbano Non è accessibile ai disabili La denuncia Arriva dal presidente Dell'associazione Naba Andrea Dejana Il quale ha spiegato I nostri microfoni Come l'assenza Delle pedane mobili Impedisca di fatto L'accesso al servizio Di trasporto urbano Alle persone con disabilità Vediamo Noi avevamo la necessità Di prendere il pullman Per fare una commissione Però non ci siamo riusciti Perché manca la pedana Una cosa gravissima Che impedisce di fatto Al disabile Di poter usufruire del pullman Andrea, siete già riusciti A fare come associazione Una segnalazione all'Arst Che gestisce questo servizio? Ancora no Però faremo il possibile Per contattarli E per segnalare a loro il problema Il problema è che Mi ci mettono nei panni Di tante persone disabili Che non riescono a salire Vorrebbero prendere il pullman Non riescono a salire Ma anche nei panni Di tante persone anziane Che fanno fatica A salire sullo stesso pullman Perché comunque Il gradino è alto Si è tenuta venerdì scorso La videoconferenza Per disegnare Il perimetro degli interventi Per la ricostruzione Del ponte crollato Sulla strada Che collega Gonnesa A Fontanamare Gianpaolo Cironis Si è tenuta Videoconferenza Ha presentato istanza Per la realizzazione Delle opere Si procederà Alla realizzazione Delle seguenti opere Ha spiegato L'assessore regionale Dei lavori pubblici Roberto Frongia Rimozione delle macerie Realizzazione Del ponte provvisorio Progettazione Ripristino Del ponte crollato Con miglioramento Dell'accessibilità Alla spiaggia Tramite rotatoria E infine Realizzazione Del ponte passerella E adesso La politica regionale Perché la regione Intende impegnarsi Concretamente Per assicurare Vantaggi fiscali A imprese Artigiani E lavoratori Attraverso Un percorso virtuoso Questo è ciò Che ha dichiarato L'assessore regionale Del lavoro Alessandra Zedda Incontrando Una delegazione Di partite IVA Commercianti Artigiani E altre categorie Produttive Che questa mattina Hanno manifestato A Cagliari La regione Intende impegnarsi Concretamente Per assicurare Vantaggi fiscali A imprese Artigiani E lavoratori Attraverso Un percorso virtuoso Detrazioni fiscali E deducibilità Di alcuni costi Sostenuti Per il lavoro Possono generare Un impulso positivo Per il rilancio Del tessuto economico E produttivo Dell'isola E in questo momento Di particolare Fragilità del sistema Siamo pronti A fare la nostra parte Da subito Lo ha detto L'assessore regionale Del lavoro Alessandra Zedda Incontrando Una delegazione Di partite IVA Commercianti Artigiani E altre categorie Produttive Che hanno manifestato A Cagliari Abbiamo messo in campo Provedimenti Che consentono Di abbattere In modo significativo Il costo del lavoro E immettere liquidità Nel sistema economico Regionale Per permettere Alle categorie Produttive Di resistere In questo difficile momento Ha spiegato L'assessore regionale Del lavoro Ma non basta Concluso Alessandra Zedda Serve subito Un tavolo tecnico Sul quale confrontarsi Per definire Le azioni più efficaci Anche attraverso Una mobilitazione Nei confronti Del governo Se necessario I vantaggi fiscali Che immaginiamo Prevedono L'applicazione Di risparmi Di imposta Per le imprese Che intendono Svolgere O delocalizzare La propria attività Produttiva Nelle aree Svantaggiate Dell'isola E adesso Come di consueto L'aggiornamento Dei contagi Un solo caso Positivo Al covid-19 Negli ultimi Dieci giorni E nessun decesso Negli ultimi Otto E questo Il bilancio Della diffusione Del coronavirus Con il quale Si è chiuso Ieri il mese Di maggio In Sardegna Un bilancio Indubbiamente Positivo Nel quale Rientrano anche I numeri relativi Al numero Dei pazienti Ricoverati In ospedale Con sintomi 33 e quelli In terapia intensiva 2 Sono 150 le persone In isolamento domiciliare 185 gli attualmente Positivi 1041 i pazienti Dimessi E' con questi numeri E' con questi numeri Quindi che la Sardegna Si presenta L'importante scadenza Del 3 giugno Quando è prevista La riapertura Dei confini regionali Sulla quale Non si è ancora Spenta l'eco Delle polemiche Sulla proposta avanzata Dal presidente Della regione Per la certificazione Di negatività Dei turisti E la ferma Opposizione Del governo Ben ritrovati In studio In apertura Di questa Seconda parte Parliamo Del porto Di Sant'Antioco Dopo Dopo anni Di dure lotte L'infrastruttura portuale Infatti Non verrà realizzata Sentiamo le motivazioni In questa intervista Di Manolo Mureddu Con Rolando Marroco Portavoce Del comitato Porto Solchi Dopo anni Di dure lotte Di numerevoli Azioni politiche L'infrastruttura Portuale Che avrebbe dovuto Collegare L'isola di Sant'Antioco Alla terraferma Non verrà realizzata Siamo collegati Con il portavoce Del comitato Porto Solchi Rolando Marroco Alla fine Marroco Siete riusciti A scongiurare La realizzazione Di questa opera Che da subito Avevate giudicato Come inutile Controproducente Ma soprattutto Uno sperbero Di risorse pubbliche Puoi raccontarci Come è andata? È andata Che nell'aprile del 2016 La politica A tutti i livelli Si rassegnava Alla costruzione Dell'inutile Nuovo Ponte A Sant'Antioco Da 57 milioni di euro Per fare quello Avevano sottratto I finanziamenti Per la riqualificazione Delle principali strade Del Sulcis E cosa è successo? Un gruppo di cittadini Non ci stava E quindi Si è costituita Nel comitato Porto Solchi E dopo tutti Questi lunghi anni Di battaglia Si è riuscita A comporre Un granitico Frontiunico Composto dal comitato Delle associazioni ambientaliste Dai sindaci del territorio Che hanno richiesto Al ministero La non realizzazione Del nuovo ponte A favore Della intera viabilità Del Sulcis E della riqualificazione Del porto di Sant'Antioco Quindi Finalmente Uno degli obiettivi Primari proprio Del piano Sulcis Ovvero Lo sviluppo Della nautica d'eccellenza Potrà concretizzarsi Con la valorizzazione Appunto Del golfo di Palmas Tramite la riqualificazione Del porto di Sant'Antioco Quindi Un porto Per funzionare Necessariamente Deve avere Una viabilità funzionale Che lo colleghi Alla provincia E alla regione Ecco perché C'è la necessità Di mettere mano All'intera viabilità Del Sulcis Nessun escluso E questo Potrà venire Proprio grazie Alla rimodulazione Di questi 57 milioni di euro Appunto oggi Destinati al nuovo ponte Di Sant'Antioco E questo Recupero Di una somma Così ingente E il conseguente investimento Nel territorio In opere realmente funzionali Appunto Allo sviluppo Di quella che è La provincia più povera D'Italia Alla fine Anche il comune Di Sant'Antioco Si è dovuto Ricredere Che ha dovuto Sostenere La vostra battaglia Si in effetti Il comune di Sant'Antioco Ha cambiato La posizione Del 2016 Quando invece Voleva far realizzare Questo nuovo ponte Perché noi Abbiamo creato Le aspettative Nel territorio Quindi chi Si era candidato Per amministrare La città Sapeva Che cosa voleva Sant'Antioco E che cosa Del Suggis Grazie al vostro Impegno Alla vostra azione Rolano Marrucco Siete riusciti Anche a coinvolgere Tutti i sindaci O la maggior parte Di essi Nel territorio Per fare un fronte Unico Contro coloro Che volevano Realizzare Quest'opera Occorre ricordare Che il nuovo Ponte di Sant'Antioco Sembrerà assurdo Ma era diventata Un'opera strategica A livello nazionale Quindi Il fronte unico Dei comuni È stato Essenziale È stato Veramente Essenziale Perché L'ANAS Stava richiedendo L'applicazione Della legge Che permette L'approvazione Di un progetto Strategico Anche Con il dissenso Di un solo Comune Che quindi Il loro intervento Veramente Ha salvato Non solo Sant'Antioco Ma l'intero Suggis Voltiamo pagina Il 30 maggio 2014 Dopo una lunga E debilitante Malattia Moriva L'onorevole D'Averio Giovannetti Per molti Sul segretario Per il suo Lunghissimo Operato Prima Nella federazione Di minatori Poi Alla camera Del lavoro Della provincia Di Cagliari Alla segreteria Generale Della CGL Della Sardegna In questo pezzo In questo pezzo Che segue Il ricordo Dell'ex Segretario Della camera Del lavoro Roberto Puddu Che ne ha Ampiamente Ricordato E parlato Anche Sulla Sua Sulla propria Pagina Social Su Facebook Vediamo Il 30 maggio Il 30 maggio Del 2014 Dopo una lunga E debilitante Malattia Moriva L'onorevole D'Averio Giovannetti Per molti Sul segretario Per il suo Lunghissimo Operato Prima Nella federazione Dei minatori Poi Alla camera Del lavoro Nella provincia Di Cagliari E alla segreteria Generale Della CGL Della Sardegna In carico Che ha lasciato Per la candidatura Alle elezioni Politiche Nel 1972 Nelle quali È stato eletto Senatore Della Repubblica E nelle file Del PC Ruolo Nel quale È stato Poi rieletto Per altre due Legislature Della sua Lunga attività Prima nel sindacato E poi al senato Rimangono Tantissimi Passaggi Memorabili Che possono Essere riassunti Nella sua Grande determinazione E nel suo Operato Negli anni Delle durissime Lotte Per la dignità Di lavoratrici E lavoratori Nel luogo Di lavoro Delle equità Del salario Per la salvaguardia Del settore Minerario Il periodo Caldissimo Della fine Di quel ciclo Con l'avvento Dell'industria E infine L'inizio Della sua crisi Ricorda Roberto Puddu Ex segretario Della Camera Del lavoro Di Carboni Iglesias Un uomo Che ha vissuto 70 anni Di lotte La guerra Gli sfruttamenti Le repressioni La liberazione La rinascita E cambiamenti Tra il privato Il pubblico E viceversa Il piano Del lavoro Della CGL Di Vittorio È tanto Davvero Tanto altro Di cui ha lasciato Traccia Traccia con i risultati E con i suoi scritti Se i consiglieri Di minoranza Del comune D'Iglesias Alberto Cacciaro Luigi Biggio Simone Saiu Federico Garau Francesca Tronci E Bruna Moi Intervengono Sulla situazione Dell'Istituto Per Anziani Casa Serena Nonostante I revisori Abbiano dato Il termine Del primo giugno 2020 Quale termine Invalicabile Per la chiusura Di Casa Serena In mancanza Di interventi Economici Ad oggi Il sindaco Si è chiuso In un silenzio Surreale Scrivono In una nota Chiedere Ancora Aiuto A Cagliari Che neppure Un anno fa Ha soccorso Il comune Con due milioni E mezzo Significa Ammettere La propria Incapacità E non comprendere Che anche la regione Deve rendicontare Le risorse Che mette in campo Per i comuni Auspichiamo Concludono Si trovino Soluzioni immediate Per garantire Il pagamento Degli stipendi Ai lavoratori E rimaniamo Sempre a Iglesias Perché il gruppo Dei riformatori Sardi Ha protocollato Una mozione Sul piano urbanistico Comunale Sul centro storico E ancora una volta Una proposta Che ha come unico scopo Di creare un ponte All'interno Delle istituzioni Per affrontare E risolvere i problemi Siamo pronti A mettere A disposizione Idee e progettualità Sviluppate Nel corso degli anni Grazie al volontariato Di alcuni professionisti E al centro studi Dei riformatori Sardi Ha spiegato Valentina Pistis Capogruppo In consiglio comunale Vogliamo dare Un contributo Affattivo alla città Prosegue in termini Di sostegno E di idee La città Merita La massima Collaborazione Tra le parti Politiche Le istituzioni In questo caso Il centro storico Rappresenta Il cuore pulsante Della nostra comunità Graziano Lebiu Presidente dell'Opi Ordine e professioni Fermiristiche Di Carboni Iglesias Interviene Sulla conferenza stampa Tenuta qualche giorno fa Dai sindaci Dei comuni Del sulcis iglesiente A San Giovanni Suergio Abbiamo atteso Ad intervenire Per non inficiare La riuscita Della vostra conferenza stampa Sulla sanità Del 28 maggio Scrive Lebiu In una nota Esprimiamo forte disappunto Per essere stati Inopinatamente esclusi Un'evidente limitazione Della partecipazione Del diritto di espressione E manifestazione Del libero E differente pensiero E che non può passare Inosservata Con la nostra proposizione Non volevamo Fare ombra O togliere la scena A nessuno Ma dare una qualche luce Prospettiva ai cittadini E provare a restituire Loro ambienti sanitari Nei quali ricevere Le prestazioni assistenziali E di cura Tanto attese Bentornati in studio Per questa terza Ed ultima parte Del nostro telegiornale È morto Mercoledì 27 maggio All'età di 86 anni Sandro Iba Ex sindaco Di Giba Sandro Iba Ha trascorso La maggior parte Della sua vita All'interno Del proprio comune Prima da funzionario Per circa 30 anni Successivamente Da amministratore Ricoprendo Per lungo tempo La carica di vice sindaco E poi Nei primi anni 90 Quella di sindaco È stato per tanti anni Presidente della Cassa Comunale Di Credito Agrario Di Giba E per almeno Mezzo secolo Punto di riferimento Per tutti i cittadini Chi l'ha conosciuto Lo ricorda Per il suo modo affabile È garbato Soprattutto per il suo impegno Quotidiano Verso il prossimo Fino all'età di 84 anni Sandro Iba Ha continuato a svolgere La sua missione Al servizio dei cittadini All'interno Del patronato Voltiamo pagina Mercoledì 3 giugno Riaprirà al pubblico Dopo quasi tre mesi Il parco archeologico Di Monti Sirai A Carbonia In via straordinaria Nella giornata Di mercoledì 3 giugno L'ingresso Sarà gratuito Per tutti i cittadini Residenti nel comune Di Carbonia È richiesta La prenotazione Dei visitatori Onde evitare La formazione Di assembramenti Gli orari di apertura Saranno la mattina Dalle 10 alle 13 Il pomeriggio Dalle 16 alle 19 La visita guidata Sarà effettuata In fasce orarie Prestabilite Per informazioni E prenotazioni È possibile contattare L'indirizzo e-mail Carbonia Chioccio La sistema museo Punto it Oppure Il numero telefonico 345 575 597 591 Sabato mattina In piazza Carta Cortoghiana Si è svolto Il terzo appuntamento Dell'anno Con alberi per il futuro L'iniziativa organizzata Dal comune di Carbonia Con la collaborazione Di volontari Genitori Nonni Al fine di mettere A dimora Un albero Per ciascun bambino Nato nella nuova città Nel 2019 Nel futuro polmone verde Di piazza Carta La presenza Dei bambini Dei loro genitori Dei parenti Ma anche degli amministratori Locali Dei volontari Sono stati piantati 20 alberi di filiera Dotati di un'apposita etichetta Identificativa Di ciascun piccolo Nuovo nato Una giornata emozionante Che fa il paio Con quella di sabato scorso Quando sono stati messi A dimora Dieci alberi Di leccio Con questa notizia È tutto Vi ringrazio Per averci seguito Fin qui Per aver scelto L'informazione Di Canale 40 Come di consueto Adesso vi lascio Alle previsioni meteo E poi Noas in curso Il nostro telegiornale In lingua salta Vi do appuntamento Alle prossime edizioni Del TG40 Arrivederci Per aver scelto